Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amali e oggi ho detto andiamo a fare la spesa a Lidl e quindi vi ho fatto un video per la novità di 5 maggio, vari articoli interessanti e anche delle offerte che ci sono se vi piace il video mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi è arrivata la novità e se avete qualche informazione, domande o ricchezza particolare, benvenuti, sono alla vostra disposizione abrimos la caja 2 Grazie Abriamo la caja 2 Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti